Condannati i presunti esecutori e vittima. Ha deciso così il GUP Sara D'Addea in merito al rito abbreviato relativo al tentato omicidio avvenuto la notte del 25 agosto 2013, nel quale rimase ferito il meccanico Alessandro Maggio, 33 anni. Il giudice per le udienze preliminari ha condannato, in quanto ritenuti responsabili di aver organizzato l'agguato, Antonino Arcoraci, 44 anni, ha 8 anni e 8 mesi di reclusione, e il figlio, 19 anni Luigi, ha 6 anni. Due anni e 8 mesi di reclusione complessivi sono stati inflitti ad Alessandro Maggio, destinatario dell'agguato. Ai 10 mesi di reclusione per favoreggiamento personale si è aggiunta una condanna a un anno e 8 mesi per il reato di maltrattamenti a carico della compagna di origini straniere. Dettaglio che sarebbe emerso dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali dopo che la donna avrebbe fornito indicazioni utili alle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto. Nella notte del 25 agosto 2013 ben 9 furono i colpi di fucile esplosi contro l'uomo. Uno solo lo raggiunse di striscio. Alla base della spedizione punitiva un litigio è avvenuto poco prima per contrasti legati al furto di un ciclomotore. Antonino e Luigi Arcoraci sono stati difesi dall'accusa di tentato omicidio dagli avvocati Giuseppe Lopresti e Giovanni Cicala. Alessandro Maggio è stato difeso dall'avvocato Nino Aloisio.